sono sì oggi 3 novembre 2023 sono le 9 49 ci troviamo al comune al comunico dei marti da questa piccola buco ho caduto questi hanno più di tre chili topinambur adesso viaggio la cassetta il topinambur e dove a questa cassetta a casa mia ma faccio come gli da morire ecco qui il pranzo è servito bella la grande soddisfazione ce n'è molto di topinambur chi semina raccoglie se stamattina piova ma c'è passata guardate quando ho il topinambur gli steri sono andati senza stabbia senza niente la rascia l'abbondanza se il mio carissimo orto certamente per raccogliere il topinambur le nocciole via di seguito il terreno ha bisogno di essere codito lavorato tutto con le mie braccia con la mia voglia di lavorare la mia passione per l'altro